Musica Siamo sul Naviglio, vedete sono mezzanotte, meno 5 circa e la vita inizia adesso, vedete che ci sono dei locali all'aperto oggi fa anche abbastanza caldo, si sta bene musica, rumore, divertimento, gente che si diverte, gente a piedi ci sono dei mercatini all'inizio e i locali si organizzano mettendo anche le tende a destra e a sinistra questa è tutta zona pedonale non se ne parla di chiudere la musica perché qualcuno si lamenta chiaro però bisogna rispettare quelli che devono lavorare la mattina, che ne so secondo me basta mettersi d'accordo e trovare un modo per isolare maggiormente i luoghi dalle frequenze acustiche ma tu hai già cantato questa sera o c'è speranza di risentirlo? no ma io sono qui a trovare degli amici e siamo qua proprio per... peccato, per l'acqua grazie 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 oggi non faccio tardi però mezzanotte, luna di solito c'è un po' più movimento fino a che ora? fino a luna, cioè dipende, settimana fino a luna venerdì e sabato va avanti ci stiamo divertendo e in questo club tu già stai sognando e stai pensando che qualcosa tu non lo stai alcanzando fino a che ora state qui a divertirvi? ma pochissimo ancora ma pochissimo, è quasi meno sì, a massimo luna, al massimo luna perché domani si lavora allora io e il mio amico siamo qui fino alle 2.30 alla chiusura dei locali poi lui è il titolare di questo locale non è vero, non è vero, no qualsiasi cosa è falso e tendenzioso ma sentite, ma qui si beve, si fuma, che si fa? no no, allora qui si beve solamente di fumare non si fuma io vado a dormire perché sono stanco non so, la vita qui continua come on And you already got it If you thought it It better be what you want